Ascolta, so che non puoi fare, ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo, andremo ovunque dopo l'ora, ok? Beh, non me ne vado senza di te, perciò muoviamoci e facciamola finita. Belli, ho trovato un altro di quei fumetti. Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini. Ero in un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi vedevi, vedevi famiglie a pezzi. Il mondo intero era andato sotto sopra in batter d'occhio. Avevi già perso, Sarah? Sì, esatto. Non riesco a immaginare cosa vuoi fare, perché non così. Per tutto ciò che conosci. Mi spiace, Giovanni. Tutto ok, Ellie. Mi spiace, Giovanni. Annettega, mafia ti suolta. Va zero a cresci,ge stuff, perché vari? Tagline-i! Tagline-i! Tagline-e! Tagline-i! Acque må mora ci sleeves! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andrà alla grande. Grazie a tutti. Spero non ti dispiace. Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie. Grazie a tutti. Cosa intendi? Grazie a tutti. Marta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 No, 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 no! 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 No, no, no! Merda! 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 Stai vicino al gordo, via più bassa. Ed ecco un'altra porta chiusa. Ed ecco un'altra porta. Ed ecco un'altra porta. Va bene. Dammi il piede. Ok. Dai. Apri quella porta. Attenzione! Questo stroncio di rotto! Tutto ok? Sì. Mi ha solo spaventato. Non vedo l'ora che tutte le cose spariscono. Bene. Bene. Non vedo l'ora che sia l'ora. Bene. 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 E. Bene. Grazie a tutti. Ehi, guarda! Eccolo là! Ehi, guarda! 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 Ehi, guarda!